Eduard Slavo Ljub Penkala, fu uno dei maggiori innovatori del ventesimo secolo. Di origine croata, Zagabria, NAC nel 1871 e morì 1922. Brevettò oltre 70 invenzioni, alcune delle quali furono il termos per bevande calde, la borsa dell'acqua calda in gomma, lo spazzolino da denti con testina rotante, la torcia a pile tascabile, il detersivo per lavare la biancheria, l'insetticida. Ma, l'invenzione che lo rese più famoso fu la matita meccanica, poi chiamata penna meccanica o penna stilografica. Sicuramente fu un grandissimo inventore croato.